Non ci puoi fare fatto, ragazzi? La mavera, c'è questa schifrezza, è scattata. No, ma quella si tiene le 24 dì. E la vuoi fare in basse, eh? Stai passando, che ne avevo mai. E' un po' di controllo e forzarini, per favore e forzarini, per aiutare dal pro... È un po' di controllo, che motore è? Che motore è? È un motore monta. Mi sento a... Che motore è monta. È un motore monta. Secondo me è lo stesso 100 CV. È del 250 CV, però è più leggera. Allora, la nuova ala. Poi ha fatto anche la venta d'or 5C, l'episeta 30, ok? Bessere! Grazie! Oh, ciao! Ciao, ciao! 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 Ciao, ciao! In fronte! In fronte! In fronte, in fronte! Scusate eh, aviso no... Questa è un'armo preziosa. 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 Questa è un'armo preziosa.